Genitori, sposa, mimo e l'arella! In un matrimonio ci sono mediamente 100 ospiti. Sai che i 95 di loro tornano a casa stanchi, abbuffati e con la sensazione addosso di essersi annoiati? Sai cosa devi fare per evitare questo? Ciao, io sono Francesco Barattucci e sono il fondatore di Matrimonio Travolgente, il primo e unico servizio musicale in Italia nel settore del matrimonio specializzato nel far scatenare tutti a fare festa, nonché autore dell'omonimo libro Matrimonio Travolgente Scopri Come Avere Una Festa Spontanea. Clicca sul link in descrizione e scarica subito il video gratuito che ho preparato per te dove scoprirai come far scatenare tutti i tuoi ospiti in 7 step anche se hai partecipato a mille e mila matrimoni noiosi e non sai da dove cominciare. Ciao e ci vediamo dall'altra parte! Ciao! 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 Ciao!